Il Dies Academicus è il compleanno dell'università. Oggi è un giorno di festa. L'università della Svizzera italiana è nata 21 anni fa. È nata da un desiderio vecchio di più di 400 anni. Nel 1500 gli abitanti delle nostre contrade andavano a studiare a Pavia, o più lontano ancora. Ma già nel 1588 i gesuiti di Lucerna chiesero al Papa di fondare un'accademia a Lugano, che poi però non si fece. Adesso Lusi è una giovane adulta, è a un punto di svolta e come una persona che diventa maggiorenne può iniziare a far cose che prima non poteva fare. Ma diventando legalmente adulta deve essere responsabile dei propri atti. Inoltre diventare maggiorenni implica anche iniziare a far veramente parte della società. Allo stesso modo mi sembra che l'università stia ancora cercando una sua posizione riconosciuta e rispettata nel cantone. Una di queste posizioni è quella di raccordo, di lievito dell'offerta universitaria ticinese. Vi sono altri festeggiamenti in corso. La SUPSI festeggia il ventesimo anno di esistenza, la Facoltà di Teologia di Lugano il suo venticinquesimo compleanno e con queste Lusi continua a collaborare e con la Facoltà di Teologia sta seguendo un percorso di avvicinamento. Quindi Lusi sì esiste, ma direi di più, Lusi insiste, vive sì ma non vegeta, pulsa e vista l'età matura e il ruolo che le è stato assegnato deve poter dire la sua, deve poter far sentire la sua voce, far parlare le sue componenti tra di loro e con il mondo che le circonda. Così per esempio abbiamo creato il Senato, il Senato accademico, un nuovo organo centrale eletto dai membri della comunità che aiuterà ad aumentare la coesione dell'Ateneo e che si è riunito per la prima volta settimana scorsa. Abbiamo anche stimolato altre discussioni e dovremo presto creare una delegazione per le pari opportunità. Messa in moto, liberata, la parola deve circolare e bisogna ascoltarla quando è liberata e accompagnarla. E' quindi stato importante allargare la squadra degli accompagnatori. Così abbiamo gradualmente allargato il rettorato, prima con la nomina di due prorettori, Daniela Mondini, Michele Lanza e poi con la nomina di una nuova direttrice amministrativa, Cristina Largader. Anche a livello delle componenti è stato un rinnovo dall'ultimo dies. E' entrato in carica il decano Andrea Rocci per la Facoltà di Scienze della Comunicazione. Sono stati eletti i futuri decani Antonio Carzaniga e Riccardo Blumer, rispettivamente Facoltà di Scienze Informatiche e Accademia di Architettura. Patrick Gagliardini è stato confermato nel suo ruolo di decano della Facoltà di Scienze Economiche e Mario Bianchetti prosegue il suo mandato come decano fondatore della Facoltà di Scienze Biomediche. Ma vi sono anche altri accompagnatori che, anche se non hanno più un posto nell'organigramma dell'università, continuano ad aiutarci a sostenerci con passione. I miei due predecessori, Marco Baggiolini e Piero Martinoli, e gli uomini di grande esperienza, Mauro Martinoni e Sandro Rusconi. Anche se giovani, abbiamo già un'eredità da gestire. Ma abbiamo veramente capito che cosa ci è stato lasciato? Si sa che l'onorevole Buffi, commentando il fatto che si è sempre detto che il nostro cantone è una regione ponte fra due realtà, culturali, politiche, economiche diverse, diceva che bisognava non più limitarsi a trasportare pacchi da una parte all'altra del ponte, ma bensì, cito, avere l'ambizione di partecipare alla formazione del loro contenuto. Abbiamo capito di che cosa parlava? Ci abbiamo provato. Abbiamo provato traslocando modestamente con una catena umana i libri della biblioteca. Abbiamo anche, seguendo Buffi, però, partecipato alla sfida della ricerca e dell'insegnamento cui questo contenuto allude. Abbiamo tra di noi talenti e opinionisti. Dall'ultimo dies, i nostri professori sono stati insegnati di premi e riconoscenze prestigiosi, ad esempio Piero Boitani, per il premio Balzan del 2016, Michael Bronstein, che ha ottenuto un ERC Consolidator Grant, le Grafton Architects, alle quali è stata attribuita la direzione della Biennale di Venezia del 2018, Francisca Eret, che ha ottenuto l'Arnold Brumer Memorial Prize dell'American Academy of Arts and Letters, Antonio Lanzavecchia, membro della U.S. National Academy of Sciences, Vittorio Limongeli, che è stato attribuito il Serviette SCT Award for the Young Researcher in Medical Chemistry, Michele Parrinello, di cui avete forse sentito proprio ieri, l'annuncio, ha ottenuto il 2017 Dreyfus Prize in the Chemical Sciences, e Jürgen Schmidhuber, che ha ottenuto l'ERC Advanced Grant, e per finire, questa carrellata che è solo un esempio, Carlo Filippo Wetzel, che è stato nominato Senior Editor di una rivista prestigiosa come Organization Science. Regolarmente i nostri professori sono presenti nei media e contribuiscono a decriptare l'andamento del mondo. Appaiono qui i professori Balbi, Cantoni, Ossola e Roussmol della Facoltà di Scienze della Comunicazione, e la professoressa Mira nella Facoltà di Scienze Economiche. Abbiamo cercato canali innovativi per far sentire la nostra voce. Abbiamo cercato ispirazione nella tradizione. Abbiamo preso spunto dalle tecnologie usate dagli uomini politici di successo, dalle star della pop. E poi, per darvi un'idea di cos'è l'innovazione, Mario Botta ha avuto l'idea di questo, il teatro dell'architettura, che aprirà nell'autunno di quest'anno e che servirà da megafono e amplificatore delle attività dell'Accademia di Architettura. Bene, i nostri professori ottengono riconoscimento nei loro ambiti e ci fanno approfittare delle loro competenze, ma quello che facciamo ha veramente un impatto? Abbiamo economisti che si occupano dell'invecchiamento della popolazione, ricercatori che lavorano sul cancro e epidemie devastanti come Ebola, i giovani che usciranno dall'Accademia costruiranno le nostre case, e vedremo un po' più tardi, durante la cerimonia, come i lavori di intelligenza artificiale sviluppati dall'Istituto Dalle Molle, un istituto a cavallo tra usi e subsi, hanno un impatto immenso. Apple, Google, Microsoft e Amazon usano tutte abbondantemente tecnologie basate sulle teorie sviluppate in seno all'izia dagli anni 90. Inoltre, organizziamo il dibattito con il pubblico su alcune grandi sfide. Per questo, accogliamo universitari di primissimo piano. Jean-Louis Cohen ha occupato la cattedra Bornomini in questo anno accademico e ha trattato dell'architettura come vettore politico. Alain Aspè ha dato una Balzan Lecture sulle recenti evoluzioni tecnologiche della fisica quantistica. E tra una decina di giorni accoglieremo Manuel Castels per un'altra Balzan Lecture sulla situazione delle democrazie occidentali. Abbiamo inoltre istituito una cattedra Medio Oriente e Mediterraneo che l'anno prossimo sarà occupata dal noto politologo e orientalista francese Gilles Keppel, che terrà dieci lezioni aperte al pubblico su temi di scottante attualità. Quindi, la voce dell'università si esprime in diverse maniere. Per terminare, vorrei presentarvi rapidamente il risultato di un lavoro che è durato più di sei mesi ed ha implicato un numero molto considerevole di colleghi, membri dell'università in generale. Si tratta del lavoro di rifondazione della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Una maniera di descrivere la nascita della Facoltà è la seguente. Il World Wide Web è nato nel 1991. Vediamo qui Tim Berners-Lee nel 1994 al CERN, dove il World Wide Web è stato inaugurato. Non è sempre chiaro quale sia l'impatto di un'innovazione tecnologica. Quale sarà, per esempio, la conseguenza a lungo termine dello scavo della galleria di base dell'Il San Gottardo resa possibile dalle nuove tecniche di scavo? L'economia ticinese ne trarrà vantaggio? O dipenderà ancora maggiormente dai due poli economici a nord e a sud? Comunque, nel 1996, era chiaro che con questa innovazione tecnologica, il World Wide Web, il mondo sarebbe cambiato radicalmente. Sarebbe cambiato il modo di comunicare delle persone, delle organizzazioni, della società. E si può dire che la Facoltà di Scienze della Comunicazione è nata per accogliere questa sfida, la sfida portata da questo importante cambiamento. Così, già il 21 ottobre 1996, solo cinque anni dopo la nascita del World Wide Web, il professore Luigi Dada inaugura i corsi della Facoltà con una lezione sul suo funzionamento. Ma dall'inizio la Facoltà non si è limitata ad allargare ai nuovi media il tradizionale studio dei media e delle comunicazioni di massa. Si vuole invece proporre, come orizzonte della Facoltà, la ricerca è interdisciplinare sulla comunicazione, colta in tutta la sua ampiezza, attingendo alle scienze sociali e alle scienze umane. La ricchezza e l'interesse di questo approccio appare in modo chiaro se si vuol capire un fenomeno, in fondo, complesso, come quello della diffusione cosciente di notizie false. Poi nel 2007 fu creato l'Istituto di Studi Italiano, che sviluppa un approccio al linguaggio complementare, aperto sulle arti e la poesia. La rifondazione alla quale si è arrivati propone una sintesi delle varie componenti della Facoltà di cui l'Istituto di Studi Italiani e si articola intorno alla volontà di rispondere a tre sfide. L'interconnessione globale, delle reti di comunicazione e i cambiamenti che l'accompagnano, la diversità linguistica, culturale, ideologica, filosofica e religiosa che gli imponenti cambiamenti demografici, migratori e geopolitici in atto pongono alla comunicazione pubblica ed impresa, internazionale e interculturale. E infine, l'elaborazione e la trasmissione della cultura, di una memoria per il futuro, in un'epoca caratterizzata dai cambiamenti tecnologici e culturali che definiscono le prime due sfide. Questa rifondazione permette di confermare la posizione centrale della Facoltà che continuerà a sviluppare le sue attività in sintonia con le altre componenti dell'Università. Ci sembra che questo richieda il cambiamento del nome della Facoltà per rendere esplicito l'allargamento dello spettro delle problematiche studiate. E tra le varie opzioni prese in considerazione, il nome di Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società è il nome che ha riscosso il più ampio accordo in seno alla Facoltà e al Consiglio dell'Università. Per concludere. Quando uno degli autori della teoria del determinismo tecnologico a cui ho fatto rapidamente allusione prima, Marshall McLuhan, ha scoperto che era scappato un errore di stampa nel titolo del suo libro The Medium is the Message ha considerato che era meglio lasciarlo. Il libro, scritto con Quentin Fiore, è quindi uscito con il titolo The Medium is the Massage. L'errore faceva apparire significati nuovi da Mass Age, epoca di massa, a Mass Age, epoca della confusione. Io tradurrei il titolo con Il Mezzo è il Massaggio. Oggi ho cercato di darvi un ma-assaggio cioè un assaggio del ma ovvero della questione che ha occupato una buona parte del nostro tempo dall'inizio dell'anno accademico cioè valorizzare la voce dell'Università. Una voce spesso fuori dal coro. La circolazione della voce come mezzo per diventare responsabili. La voce che, fuoriera di imprecisioni, con accostamenti spesso involontari, ci permette di trovare sensi nuovi che aiutano a risolvere i problemi legati allo stare assieme per svolgere al meglio la missione che ci è stata affidata. Grazie. 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 Grazie.